Scoop clamoroso nella famiglia Windsor, Carlo ha una figlia segreta Il principe William trema. Ecco chi potrebbe salire sul trono d'Inghilterra al suo posto La donna in questione è uguale a mamma Camilla Parker.William e Camilla Carlo e Camilla sono genitori di una figlia tenuta nascosta fino ad ora Il duca di Cambry rischia di perdere il trono. Chi è la sorellastra dei principi d'Inghilterra? Il principe William rischia di perdere il trono.Il principe William rischia davvero grosso Il primo genito di Carlo e Lady Diana potrebbe vedersi strappare dalle mani il trono di Inghilterra Una donna potrebbe prendere il suo posto.William.Stiamo parlando della presunta figlia segreta di Carlo e Camilla Questo scoop clamoroso fa tremare la famiglia Windsor sotto il peso di verità scomode che potrebbero ribaltare gli equilibri e gli ordini di successione di cui si era a conoscenza fino ad ora Ma chi è questa donna che spunta così all'improvviso, dal nulla e che spaventa il duca di Cambridge? Dopo anni arriva la verità Assurdo. Facciamo luce su questa vicenda misteriosa.Chi è la figlia segreta di Carlo e Camilla La storia d'amore di Carlo e Camilla inizia tanti anni fa, prima ancora che il figlio della regina Elisabetta incontrasse la sua futura moglie, Lady Diana Spencer Carlo e Camilla.Camilla Shend è sempre stata considerata la terza incomoda nel matrimonio dei sovrani d'Inghilterra, una relazione troppo affollata dichiarò la Spencer in un'intervista, alludendo proprio alla storia clandestina che suo marito, il principe Carlo aveva con l'attuale duchessa della Cornovaglia Ebbene, si mormora che la futura regina d'Inghilterra abbia avuto una figlia con il principe Carlo, quando entrambi erano ancora sposati con i coniugi, rispettivamente il generale Andrew Parker Bose e Lady Diana Nessuno sapeva nulla di questa donna.Alcuni settimanali internazionali hanno parlato, qualche tempo fa, di un presunto figlio illegittimo di Carlo e Camilla Tale Simon Dorante Day, un cameriere australiano che si è rivolto addirittura al tribunale chiedendo la prova del DNA Simon Dorante Day, Carlo e Camilla.Questi afferma di essere figlio dei duchi della Cornovaglia e l'incredibile somiglianza con i presunti genitori lo spinge a portare avanti la sua battaglia di riconoscimento Ma nessuno era al corrente di un'altra figlia che è sempre stata tenuta nascosta A lanciare l'indiscrezione è il settimanale tedesco Spass for Me Magazine che parla di una donna di nome Sara che sarebbe nata proprio dalla relazione clandestina di Carlo e Camilla Ad aver sganciato questa bomba è tale Maggie Dalton, niente di meno che la ex-tata di questa presunta figlia segreta dei duchi di Cornovaglia. Purtroppo non si hanno molte informazioni sulla donna in questione La ex-tata di Sara ha raccontato, qualche tempo fa, che la giovane donna è la fotocopia di Camilla, identica alla mamma da giovane Purtroppo altri dettagli non è possibile averli dato che Maggie Dalton è venuta a mancare Camilla.Tuttavia, prima di ispirare, ha voluto raccontare questo segreto che per tanti anni ha tenuto nascosto Intanto i futuri sovrani d'Inghilterra si celano dietro il silenzio più profondo, nessuna smentita ne conferma arriva da Palazzo Reale